Uno degli obiettivi della Digital Transformation è quello di rendere i processi di delivery di un prodotto o servizio più veloci e sicuri. Al tempo stesso clienti, sempre connessi, chiedono alle aziende di rendere loro disponibili i prodotti e servizi ovunque ed in qualunque momento. Pensiamo alla stipula di un contratto, un processo che ancora oggi spesso implica la compresenza dei soggetti coinvolti ma per il quale i clienti chiedono sempre più il passaggio ad una modalità di sottoscrizione completamente digitale e remota. The Visu Online è una piattaforma di identificazione a vista da remoto che può essere utilizzata in tutti i contesti in cui è necessario il riconoscimento del soggetto prima di erogare un servizio, ad esempio il rilascio di servizi fiduciari qualificati come la firma digitale o l'attivazione di servizi bancari e di mediazione creditizia, assicurativi, immobiliari e molti altri, migliorando l'efficienza dei processi, la loro sicurezza e accessibilità. È una soluzione completa e multipiattaforma che consente il riconoscimento di una persona tramite pc o smartphone senza la necessità di un incontro presso un ufficio o uno sportello fisico. È conforme con il regolamento EIDAS, con il codice dell'amministrazione digitale e con la normativa antiriciclaggio e le relative disposizioni della Banca d'Italia. È integrata con la conservazione digitale di Aruba permettendo di conservare in modo sicuro e a norma di legge le sessioni audio-video registrate. Con The Visual Line di Aruba il riconoscimento avviene attraverso una sessione live via webcam, in cui un operatore di riconoscimento esegue tutte le procedure necessarie per identificare l'utente che ha richiesto il servizio e verificare l'autenticità della sua richiesta. Durante la sessione di videoconferenza operatore e utente possono vedersi e parlare tramite microfono o chat. L'operatore può registrare la sessione, condividere documenti e richiederne il consenso o la presa a visione. Inviare un SMS o email con un messaggio personalizzato contenente un codice OTP per accertare l'effettivo possesso del canale da parte dell'utente. L'utente può accedere alla sessione live via webcam da PC o da smartphone ovunque si trovi. The Visual Line elimina barriere e limiti legate alle procedure che richiedono la compresenza di operatore e utente. Fornisce elevate garanzie in termini di sicurezza e compliance, aumentando efficienza del servizio e soddisfazione del cliente.